Tra le storie di qualità che contribuiscono a migliorare la complessa e strutturata macchina dei servizi pubblici vi è anche un'iniziativa del Consiglio regionale. Si tratta di Ragazzi in Aula, un progetto di Open Government attraverso il quale gli studenti possono entrare a Palazzo Lascari se vestendo i panni dei consiglieri, conoscere i processi decisionali che caratterizzano l'Assemblea Legislativa. Lo hanno deciso il Forum PA e l'Associazione Italiana Cultura Qualità, centro insulare, che hanno consegnato al Consiglio il 19 maggio a Roma il riconoscimento 10x10 storie di qualità.